E' stato pubblicato il bando per l'affidamento del campo da tennis del villaggio dei fiori di Licata. Il bando è rivolto a tutte le società che svolgono attività sportive, tennistiche e che possono presentare richiesta di concessione. Termine ultimo entro il quale gli interessati potranno presentare richiesta di concessione dell'impianto sportivo adibito a campo da tennis e il 20 novembre prossimo. Il campo da tennis ubicato al villaggio dei fiori è attualmente in uso dall'associazione sportiva tennis Sant'Angelo in virtù di una precedente concessione che scadrà il primo gennaio del 2016. Lo rende noto attraverso un avviso pubblico il dirigente del Dipartimento Affari Generali Pietro Carmina, tra le cui competenze figura anche quella della gestione dell'ufficio patrimonio. L'associazione in atto affidataria è stato reso noto da Palazzo di Città con regolare istanza ha già chiesto il rinnovo della concessione. In caso di più richieste l'amministrazione comunale per l'assegnazione del bene adotterà la procedura prevista dal vigente regolamento per l'uso dei beni comunali. Considerato che l'impianto è destinato a campo da tennis possono presentare richiesta di concessione soltanto le società che svolgono attività sportive tennistiche.